Il Friuli Venezia Giulia Il Friuli non trova spiegazioni, non esclude nulla, neppure l'azione di una setta satanica. Per primo in Italia il Circolo Friulano della Morra ha chiesto alla regione di abolire il divieto di intrattenersi al bar in osteria con questo divertimento popolare. Era stato introdotto da un regio decreto del 1929. Comincia stasera con la diretta dal Teatro di Tolmezzo della serata in onore di Gilberto Simoni, lungo weekend che Telefriuli dedica al passaggio in regione del Giro d'Italia, appuntamenti in diretta fino a lunedì. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. L'avete sentito dai titoli, da lunedì tutta l'Italia sarà in zona gialla. Il Friuli Venezia Giulia con la seconda incidenza più bassa tra le regioni dopo il Molise deve confermare il trend un'altra settimana per passare al bianco del 1 giugno. Intanto è stato trovato l'accordo sul Green Pass europeo che entrerà in vigore dal 1 luglio. Con un indice RT a 0.66, un'incidenza di 24 casi ogni 100.000 abitanti e con l'occupazione dei posti letto Covid nelle terapie intensive e nelle aree mediche rispettivamente del 9 e del 5%, il Friuli Venezia Giulia si prepara a traguardare la zona bianca. Per il passaggio dal 1 giugno sarà necessario mantenere questo trend per un'altra settimana. Intanto tutta l'Italia è in zona gialla. L'annuncio è stato dato dal ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha fatto sapere che le ordinanze di oggi renderanno lo stivale monocolore. Secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia sono tutte a rischio basso le regioni e le province italiane con RT inferiore a 1, quello medio nazionale di 0.78. Solo la provincia autonoma di Bolzano riporta un'allerta di resilienza. Il livello di ricoveri è ovunque sotto la soglia critica. La Sardegna è la regione italiana con l'RT più basso 0.61 e si prepara così al ritorno in zona bianca. Il Molise è la regione con l'incidenza più bassa, 20 casi ogni 100.000 abitanti, seguita dal Friuli Venezia Giulia con 24 casi. I dati per provincia sono di 12 casi a Udine, 28 a Pordenone, 32 a Gorizia e 44 a Trieste. Intanto è diventato realtà il Green Pass europeo grazie all'accordo trovato da Parlamento, Commissione e Consiglio europeo. Il passaporto vaccinale entrerà in vigore il 1 luglio, sarà disponibile in formato digitale e cartaceo e certificherà la vaccinazione, l'avvenuta guarigione dal coronavirus o l'esito negativo di un test. Resterà in vigore per 12 mesi. In base all'accordo, i paesi UE devono accettare i certificati vaccinali rilasciati in altri stati membri per coloro che hanno ricevuto i vaccini approvati dall'EMA, Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Il mondo sta entrando nell'era delle pandemie ed è cruciale prepararsi oggi per poter far fronte domani a nuove probabili minacce alla salute globale. Gli scienziati lanciano un messaggio inequivocabile ai capi di Stato e di Governo riuniti a Roma in occasione del Global Health Summit, indicando nell'accesso universale alle risorse e alla vaccinazione l'unica arma vincente, avvertendo del rischio di nuove possibili ondate epidemiche di Covid-19. L'analisi è contenuta nel rapporto del panel di 26 scienziati di tutto il mondo, istituito dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, dal Premier italiano Mario Draghi e copre istituto dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. La previsione è che si vada verso una situazione endemica del virus SARS-CoV-2, ha fermato Brusaferro alla conferenza stampa al Ministero della Salute, per illustrare i dati del monitoraggio settimanale della salute della cabina di regia. Il tema dei richiami ha giunto e all'attenzione, è un'ipotesi allo studio, si sta valutando la durata della copertura immunitaria e stiamo inoltre monitorando le varianti del virus. L'evoluzione della pandemia in Italia, Brusaferro ha parlato di quadro in deciso miglioramento. Buone notizie per i cittadini trasfrontalieri della nostra regione lubiana. Da questo fine settimana eliminerà il Frivenza Giulia dalla lista rossa assieme a Molise e Sardegna. I nostri corregionali da domani dunque potranno attraversare il confine senza sottoporsi a quarantena e senza dover presentare il certificato di guarigione, di vaccinazione, di test negativo. Ma novità aggiungono anche dall'Austria, pure a Vienna ha infatti eliminato la quarantena per gli italiani in ingresso nel paese d'Oltralpe. Fino al 31 maggio però per gli italiani resterà obbligatorio registrarsi nel sistema elettronico austriaco entro le 72 ore precedenti al viaggio. Sarà inoltre necessario essere in possesso della documentazione che attesti la negatività ai tamponi o che certifichi di aver ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid da 22 giorni. Ricordiamo che al momento del rientro in Italia, i nostri connazionali dovranno necessariamente sottoporsi ai test anti-Covid. dell'Italia, infatti, con l'ordinanza del 16 maggio del ministro Speranza, ha si rimosso l'isolamento in ingresso per chi proviene dai paesi dell'area Schengen, Gran Bretagna e Israele inclusi, ma ha reso obbligatoria la presenza del tampone negativo al momento del ritorno in patria. Oggi in Friuli-Venza Giulia, su 4912 tamponi molecolari, sono stati rilevati 30 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,61%. Sono in oltre 1.873 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi, 0,43%. Nessun contagio è emerso tra gli ospiti, il personale delle residenze, per anziani o gli ospedali regionali. Nella giornata odierna si registra un decesso, a cui si raggiunge uno pregresso. I ricoveri nelle terapie intensive sono 12, mentre scendono a 52, quelli in altri reparti. E sono arrivati questa mattina agli ospedali di Pordenone, Udine e Trieste i furgoni SDA Corriere di Poste Italiane con 35.250 dosi di vaccino. La consegna è avvenuta questa volta in collaborazione con l'esercito italiano. I mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno consegnato nei tre nosocomi del Friuli-Venza Giulia 24.000 dosi di vaccino AstraZeneca, 7.100 di Moderna e 4.150 di Johnson & Johnson. Picchiata, rapinata dalla borsetta, una ragazza è finita in ospedale a scagliarsi contro di lei ieri sera a Udine. È stato il fidanzato, poi arrestato dai carabinieri della Radiomobile. È finita con un accesso al pronto soccorso e con un arresto, un'aggressione che si è consumata intorno alle 19 di ieri. In Viale, 23 marzo a Udine, vicino a un bar, i carabinieri della Radiomobile intervengono subito perché un cittadino marocchino di 39 anni, residente nella zona di Pazian di Prato, ha aggredito la fidanzata, una giovane cittadina bulgara di 26 anni, dimorante nel capoluogo friulano. Nello stratonarla e picchiarla riesce a rubarle la borsetta contenente effetti personali e il suo telefono cellulare. Lei tenta di scappare, ma lui la raggiunge, afferrandola per i capelli e strappandole gli orecchini per cui riporterà delle lesioni ai lobby, lesione per cui sarà necessario il suo trasporto in ospedale. Lo straniero intanto cerca di nascondersi, ma viene individuato dai carabinieri e arrestato per rapina aggravata e lesioni, portato nel carcere di Bias Palato in attesa della convalida dell'arresto. Una bambina e la sua mamma sono rimaste ferite questa mattina alle 8 di fronte all'asilo di Cordovado lungo la regionale 463 a seguito di un tamponamento che ha coinvolto più vetture. Sono entrambe state trasportate all'ospedale, rilevi della polizia locale di Cordovado, sul posto di vigile fuoco di San Vito. Arrestato nel giorno del suo compleanno, uno spacciatore di droga di Gorizia, la squadra mobile ha trovato nella sua abitazione un etto di eroina nascosto nel forno della cucina in una scatola di giocattoli. Una breve attività di indagine della Polizia di Stato ha portato in poco tempo all'arresto di un giovane goriziano che nella sua casa del capoluogo esontino soddisfaceva per così dire le continue richieste di tossicodipendenti locali alla ricerca di eroina. L'investigazione della squadra mobile iniziata dall'osservazione di un andribieni di noti assuntori di sostanze stupefacenti vicino a quella abitazione e con il sequestro a carico di alcuni di loro di modiche quantità di droga appena acquistata. Puntualmente alle 11 del mattino lo spacciatore si recava oltre confine per acquistare l'opiaceo da una giovane slovena. È stato richiesto così un decreto di perquisizione della sua abitazione. Nei giorni scorsi, proprio in occasione del suo compleanno, gli agenti della mobile sono entrati nella sua casa e hanno trovato un etto di eroina nascosto nel forno della cucina in una scatola di giocattoli. La droga era composta da due pezzi solidi, ancora da frantumare, da polvere, 11 palline in polvere, 33 palline da un grammo ciascuna, pronte per essere vendute ai numerosi acquirenti. Trovate pure boccette di metadone, tutto il corredo necessario al confezionamento delle singole dosi. L'uomo è stato condotto nella casa circondariale di Gorizia. Rubano in un market di Camporosso, ma vengono denunciati dai carabinieri di Tarvisio. A finire nei guai due cittadini croati di 38 e 35 anni hanno sottratto varia merce, sono fuggiti in auto, inseguiti dai militari, sono finiti in una strada senza uscita. Perquisiti sono stati trovati con due borse pieni di bottiglie di alcolici e altra merce non pagata. Su proposta dell'assessore all'istruzione, Alessia Rosolen, è stato approvato oggi dall'Aggiunta del Friuli Venezia Giulia il calendario scolastico regionale 2021-2022. Nel dettaglio, più che riguarda le scuole dell'infanzia, statali e paritarie, l'inizio delle lezioni viene fissato per il 16 settembre 2021 con termini al 30 giugno 2022. Relativamente alle scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado, le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. Le elezioni avranno inizio il 16 settembre 2021 e trimiranno l'11 giugno 2022 per un totale tenuto conto dei giorni di festività nazionale di sospensione regionale delle elezioni di 207 giorni utili per lo svolgimento delle elezioni. Nella cappella feriale adiacente la canonica di Campoformido è stata rubata un'ostia consacrata. Il parroco non sa darsi spiegazioni, un fatto stranissimo, non escludo nulla, dice neanche l'azione di una setta satanica. Un gesto sacrilego che non so veramente come spiegarmi. Non so se si tratti di una bravata o se di qualcosa che possa avere a che fare con sette sataniche. È disorientato e profondamente amareggiato il parroco di Campoformido Don Giuseppe Pellitzer. Lo scorso sabato, infatti, nella cappella feriale adiacente la canonica, che rimane sempre aperta per la preghiera dei fedeli dalla mattina alla sera, è stata rubata un'ostia consacrata, la più grande. Chi ha agito lo ha fatto dopo aver osservato il presule. È andato infatti a colpo sicuro nell'armadietto dove era custodita la chiave del tabernacolo, l'ha aperto e ha rubato l'ostia. Quelle più piccole, anche esse consacrate, sono rimaste al loro posto, ma è stato rubato il contenitore di quella più grande che si spezza durante la messa. Il sacerdote Senacorto solo lunedì ha denunciato l'inquietante episodio ai carabinieri della stazione di Campo Formido che adesso indagano per cercare di fare luce sulla vicenda. Nuova vetrina per il Collio con l'inaugurazione del 19esimo Infopoint di turismo FWG a Cormons. È stato inaugurato in piazza 24 maggio a Cormons il 19esimo Infopoint di promo turismo FWG, una vera e propria cartolina per il Collio Questa inaugurazione c'erano tutti i sindaci del patto del Collio quindi una regione che orgogliosamente si sta rialzando dopo un anno e mezzo difficilissimo per poter conquistare ma lo dico convintamente delle fette sempre più importanti di visitatori di turisti Il Collio è una grandissima opportunità non solo da un punto di vista enogastronomico ma anche da un punto di vista naturalistico e perché no anche il biking quindi le pedalate le biciclette un turismo sano chi più ne ha più ne metta Ad Aquileia è stata inaugurata la mostra Essere Umano promossa da Confartigianato Udine con 55 artigiani che esporranno le proprie opere Sono 55 i maestri artigiani che quest'anno hanno deciso di partecipare alla nostra mostra di Aquileia 55 eccellenze del nostro territorio che si mettono in gioco partecipando a questa sfida per una ripartenza vedremo le eccellenze in ogni campo quindi dalla ceramica al mosaico al ferro battuto alla carta potrete ammirare tutte le produzioni che il nostro territorio può offrire declinate secondo il tema della mostra l'essere umano La possibilità di fare in presenza questa mostra non può che essere un segnale positivo di ripartenza dopo questo anno così terribile dovuto alla pandemia con la ripartenza noi crediamo che tutta l'economia si possa muovere tutta la gente possa riprendere a vivere in normalità e noi siamo ancora qui con i nostri bravi artigiani con i nostri maestri artigiani a dare un messaggio di speranza per il presente e per il futuro Per primo in Italia il Circolo Friulano della Morra ha chiesto alla regione Friulenza Giulia di abolire il divieto di intrattenersi liberamente al bar in osteria con questo antichissimo divertimento popolare se la giunta Federica accoglierà l'istanza il reggio decreto del 1929 decadrà definitivamente Parlando di divieto il reggio decreto del 1929 vietava il gioco della morra come tanti altri giochi da tavolo come il gioco d'azzardo il gioco che istiga la violenza abbiamo avuto i pareri delle prefetture delle questure anche perché ragionandoci su nei tempi che viviamo non è veritiero non induce la violenza e non è un gioco d'azzardo la regione ha già firmato quasi tutti i consiglieri hanno firmato questa proposta che è stata presentata da un consigliere regionale ci sono i pareri delle prefetture come dicevo delle questure che dicono che per loro non sussiste il problema della violenza quindi ho buona fiducia che il presidente Federica se mi ascolta provveda entro settembre già tanti altri circoli sparsi in tutta Italia mi hanno chiesto come fare questa cosa che lo vorrebbero fare anche loro e sarebbe una cosa giusta per tutto e per tutti a partire da lunedì prossimo la rassegna stampa del mattino di Telefriuli cambia nome e anticipa i tempi News Cappuccino e Brioche il titolo della trasmissione è condotta dal giornalista Roberto Mattiussi che sarà trasmesso in diretta da lunedì al venerdì a partire dalle 6.30 Novità in vista per la rassegna stampa di Telefriuli che da lunedì 24 maggio cambia nome e anticipa i tempi l'appuntamento quotidiano in diretta da lunedì al venerdì con le notizie della giornata sarà trasmesso a partire dalle 6.30 del mattino News Cappuccino e Brioche sarà condotta dal giornalista Roberto Mattiussi che ci guiderà nella lettura dei quotidiani locali con uno sguardo anche alla stampa nazionale per analizzare i principali fatti del giorno spazio anche all'interazione con i telespettatori Sarà un piacere iniziare la giornata in compagnia dei tanti telespettatori di Telefriuli alla più grande importante novità l'interazione la possibilità quindi che cosa di scriverci interagire ma soprattutto anche fare domande quelle che sono le curiosità oppure quelle che volete magari siano le risposte che volete sentire proprio live in diretta pochi secondi dopo ci sarà proprio un numero in sovrimpressione durante la durata di tutta la trasmissione che passeremo proprio insieme tra news e proprio informazione anche un caffè assieme proprio la soluzione e quelle risposte alle domande che creeranno l'interazione commenti considerazioni proprio da vivere insieme di primo mattino confermate poi le rubriche in onda a partire dalle 7 e 30 le news della notte del primo mattino a cura di Paola Treppo le previsioni del traffico di Infoblu il meteo di Antonino Renda e l'oroscopo in collaborazione con Radio.0 la trasmissione sarà proposta in replica alle 8 e 30 per la colazione organizzatevi voi alle news ci pensa Telefriuli Finanziamento complessivo di 2 milioni e 500 mila euro e contributi tra 50 mila e 100 mila euro per rilanciare l'attività culturali e sportive di gestione dei beni del patrimonio culturale fortemente penalizzate dai provvedimenti di restrizioni e chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza da Covid-19 quanto prevede l'avviso pubblico provato oggi in via preliminare dall'aggiunta regionale su proposta dall'assessore alla cultura e sport Izziana Gibelli dopo i ristori le altre misure urgenti ora spiega Gibelli sono pronti bandi per la ripartenza si tratta di un aiuto concreto per incentivare i progetti culturali e sportivi per far lavorare gli addetti del settore che sono rimasti fermi per molti mesi comincia già stasera il lungo weekend del Giro d'Italia in Friuli-Venezia-Giulia dalle 19.30 su Telefriuli a diretta da Tolmezzo della serata in onore di Gilberto Simoni dominatore dello Zoncolang e poi due mani lunghe dirette e straordinarie dal percorso della Corsa Rosa nella nostra regione fino ad arrivare alla partenza di lunedì da Saccile il Giro d'Italia arriva in Friuli-Venezia-Giulia e Telefriuli si prepara lungo weekend da questa sera fino a lunedì mattina primo appuntamento da scrivere in agenda già oggi alle 19.30 con la serata speciale in diretta dal Teatro Candone di Tolmezzo per la presentazione della quattordicesima tappa dello Zoncolan in programma domani organizzati in onore di Gilberto Simoni dominatore del Kaiser e unico vincitore sia del versante di Sutrio che da quello di Ovaro che sarà sul palco poi si entra nel vivo del Giro d'Italia in Friuli domani dalle 15.30 diretta speciale per la tappa cittadella Zoncolan con collegamenti dalla Val Tramontina e dalla salita del Kaiser fino all'arrivo dei ciclisti sulla vetta la sera stessa dalle 22 tutte le emozioni e le interviste della giornata in uno speciale domenica subito dopo il telegiornale di mezzogiorno e mezzo invece seguiremo in diretta la partenza della quindicesima tappa da Grado dalle 14.45 puntata speciale di Poltronissima insieme all'ultima partita di campionato tra Inter e Udinese seguiremo il lungo pomeriggio del Giro d'Italia sul Coglio in Slovenia e fino all'arrivo di Gorizia con anche le premiazioni del vincitore di tappa e della maglia rosa lunedì mattina saluteremo la Corsa Rosa che partirà dalla nostra regione da Sacile proprio da lì Telefriuli si collegherà per sentire il saluto del Giardino della Serenissima al Giro d'Italia e tra poco saremo in diretta da Tolmezzo per la serata in onore di Gilberto Simoni condotta da Francesca Spangaro vediamo se Francesca è pronta a te la linea si buonasera quasi tutto pronto qui al Candoni per la serata che trasmetteremo in diretta questa sera organizzata dal Comitato Locale Tappa tra i sostenitori del Comitato c'è sempre Enzo Cussi che ringrazio per essere qui con noi alla vigilia di un appuntamento importante come quello sullo Zoncolan che ti riporta anche a un evento del 2018 l'ultima volta che ci fu lo Zoncolan al Giro d'Italia e poi ci permette di fare anche un pronostico allora innanzitutto stasera essere qui in questo teatro mi porta al pensiero al 2018 quando premiai Nibali Reduceli di una settimana prima che aveva vinto la mele non saremo per cui è un ricordo incredibile la tappa di domani è una tappa bellissima sarà una tappa strana straordinaria perché questo Bernard qui se fosse in logica in logica la maglia rosa starebbe lì a guardare perché chiaramente ci sarà una fuga una fuga importante dove credo sia anche Fabbro che io fra l'altro tifo per lui chiaramente ma io credo che questo Bernard qui è un uomo che vuole entrare nella leggenda allora lo Zoncolan non è più una montagna comune è una montagna tra i miti e lui vuole vincere anche lo Zoncolan e vincere e entrare come dicevo nella leggenda io sono certo che non starà lì a guardare poi chiaramente ci sono anche Nibali Ciccicone insomma è una tappa straordinaria una tappa straordinaria in mondo visione in questi anni anche tu con la tua attività insomma hai visto effettivamente poi cosa porta anche sul territorio cioè in questi sarà la settima volta domani tanto è cambiato dal 2003 lo turismo io sono molto fiero di quello che hanno fatto con il Giro d'Italia chiaramente è una promozione incredibile per portare il turismo non a noi della bici ma a chi viene da fuori in bici sul territorio i risultati si comincerò già a vedere ma vedremo grandi risultati fra due o tre anni è un grandissimo investimento sì grazie Lorenzo Cussi che buona serata ci vediamo tra poco qui dal Candone di Tolmezzo grazie a te Francesca siamo in chiusura vi ringraziamo per l'attenzione vi lasciamo questa bella serata su Telefriuli arrivederci grazie a te Francesca